Il 10 aprile del 1992 fu un giorno davvero dannoso per le aziende e i cittadini residenti vicino al fiume Tronto. Infatti, a causa delle forti piogge, gli argini non restero all'eccessiva portata d'acqua e il fiume straripò, allagando tutte le ditte e le abitazioni della zona, provocando danni economici e sociali, in alcuni casi irreversibili. A distanza di ben 18 anni, il fiume Tronto torna a far parlare di sé e della paura che ancora oggi suscita tra i residenti. La paura è tanta perché se il fiume va, c'è sonde, c'è un casino perché noi siamo come una penisola qui, tra mare e fiume. Hanno rivisto alcune cose, però, dalla mia esperienza che abito qui, non vedo tanta sicurezza. Per noi cittadini mi preoccupa tantissimo, non poco, tantissimo, perché noi negli ultimi anni il turismo, turismo, le persone, ci preoccupa tanto perché qui l'inondazione ce ne sta tanto. Come il lavoro, tutto dice, non ci stai i soldi, non ci stai i soldi, non ci stai i soldi. E come il lavoro se ne fa poco, più passa il tempo e peggio è. Nonostante sia passato un anno e mezzo dallo spezzamento dell'argine sul versante nord del Tronto, nessuno si è ancora fatto carico del problema. In prossimità della foce, infatti, la sponda marchigiana risulta sfondata e pone la città di Martinsicuro in una condizione di pericolo allagamenti. Il problema è il lungomare, il mare, qui le scogliere, capite? Le scogliere si sono affondate un po' e nessuno ne fa niente. Capite? Quando arriva un po' di mare, dalle pante specialmente, arriva oltre il lungomare. L'unico ad essersi interessato della questione sondazione è stato il consigliere di minoranza del PD, Mauro Paci, che, in una lettera inviata agli enti preposti, ha chiesto di verificare la sicurezza degli argini. Ad oggi la situazione è rimasta invariata e la zona del fiume Tronto non è ancora stata messa al sicuro.